... Batteria B della Coppa dei proprietari, trofeo Candioli Farma. Sette e sette in dotazione, mille e sei, i primi cinque anche in questo caso ovviamente alla finale. Uno Baica dei Ronchi, Cristiano Pepponi, due Belvolo, Raffaele Lamberti, tre Zagordaf, Ciro Ciccarelli, quattro Bonita, Altera, Enrico Cuglini, cinque Fonwise AS, Federico Rescio, sei Adone delle Selve, Rebecca Dami, sette Zona Jet, Vincenzo Iaccarino, otto Ariste Ocaf, Giuseppe. Franco, si ritraggono Zona Jet e Ariste Ocaf, stacco della macchina, andati. C'è lotta per il comando solo per un centinaio di metri, passa Fonwise AS nei confronti di Bonita Alter, ben contenta di mandare uno di peso. Terza e Baica dei Ronchi, a precedere Zagordaf, quindi Adone delle Selve, il lancio in 13.3. Completamento del primo quarto di gara, passato da Fonwise AS nell'ordial 28.8, davanti alle tribune arriva Zagordaf, che si protende a lato del Battistrada, le sue mosse seguite da Adone delle Selve, a sua volta pedinato da Zona Jet e Ariste Ocaf. 43.5, i 600 metri iniziali, pariglie, quando si va a 900 dalla conclusione, uno schema che non muta, tutti hanno accettato la diminuzione del ritmo in previsione della corsa di domenica, soprattutto l'avanguardia Fonwise e Zagordaf non pigiano sull'acceleratore, gli 800 metri iniziali nell'ordine del 59. Fonwise AS e Zagordaf in linea al completamento del chilometro, passato in 1.13.8, si va a tre quarti a dritta di fronte, cerca la mossa al fondo del gruppo Aristeo, Ocaf che è prevenuto da Zona Jet, la quale allarga a lato di Adone delle Selve il completamento del 1.200, chiusi a un paletto in 14, tre quarti miglio, in 1.27.5, insiste, passa Zagordaf nei confronti di Fonwise AS. In terza posizione, Zona Jet, ingresso da dritta, arrivo e Zagordaf se n'è andato dalla compagnia, lascia Fonwise AS a lottare con Zona Jet, Zagordaf che si allontana da Fonwise e Zona Jet, Zagordaf che vince in netto nei confronti di Fonwise AS. al terzo termine a Zona Jet, 1.56 e 3, in totale 1.12.7, la media al chilometro. Per il successo alla maniera forte di Zagordaf il secondo consecutivo Ciro Ciccarelli che prosegue l'ottimo momento, Raffaele Chiaro allenatore, il figlio di Varenna che domina Fonwise AS, comunque ancora netto secondo alle sue spalle. Alla terzo zona, Jet, 3.57, l'ordine arrivo, dispari dalla seconda. Grazie. Grazie.